Il ricorso dell'associazione temporanea di imprese risultata seconda nel bando di gara per i lavori di realizzazione del termomodalizzatore, cioè dei vizi a Lombardi, non dovrebbe causare ritardi nell'avvio del cantiere. Dopo l'annuncio dell'assessore provinciale dei lavori pubblici Feola, che ieri a Telecolore aveva parlato di metà settembre, anche l'amministratore della RCM, a giudicataria provvisoria con Daneko e Dakmar, si è detto fiducioso oggi affinché l'iter procedurale si completi al più presto. I tempi da noi programmati sono peraltro che erano pure a base di un'offerta come offerta migliorativa proposta dal raggruppamento, rispetto ai 900 giorni previsti da cronoprogramma di gara ne abbiamo offerti 780, quindi siamo sereni di riuscire nei tempi previsti dalla nostra offerta a dar corso, ad iniziare le attività appena di concerto con la provincia ratifichiamo le progettazioni e i necessari pareri. Il fine è stato insomma? Sì, assolutamente, siamo in tempi possibili, a meno di stravolgimenti dettati da problematiche terze, siamo assolutamente in grado di intraprendere le attività di cantiere e rispettare i tempi programmati nell'offerta. Il ricorso della seconda azienda, il secondo raggruppamento non dovrebbe creare ostacoli? Guardi, al momento non ho nulla di ufficiale nel senso che non c'è stato notificato alcun ricorso da parte del lati concorrente alla gara del termovatorizzatore, se verrà ci saranno le opportune sedi giudiziari per andare a difendere i nostri diritti in totale serenità. Un impianto che in questo momento è un po' steggiato dall'amministrazione comunale che però fra i requisiti della precedente gara aveva per esempio richiesto l'impiego di un progettista di fama, avete scelto Matteo Tun che comunque ha dato un suo stile per quanto riguarda il termovatorizzatore. Sì, insomma conosciamo la realtà salernitana e quindi riconosciamo l'impronta, è un vero e proprio laboratorio di urbanistica della città di Salerno e nel rispetto di questo indirizzo anche noi abbiamo fatto una scelta che ricade su un architetto di fama assolutamente internazionale che ha ben ricepito l'idea che noi gli abbiamo dato di rispettare i contesti, rendere gradevole comunque delle strutture che rimangono degli opifici industriali anche di elevate dimensioni perché il termovatorizzatore ha altezza media di circa 46 metri per cui oggettivamente impattante, un disegno gradevole, a me personalmente è piaciuto tanto.